l'asfalto è brutto anche più giù ancora peggio dovranno riasfaltare tutto ciao bene sono sul zoncolan è domenica siamo il 25 aprile questo perché fra un po di tempo spari da tutta vi faccio vedere le piste da sci che quest'anno non sono state usate si sa perché questa è l'altezza della neve sono poco lontano dalla partenza della salita e mi ci vuole un po per arrivare su in cima comunque stanno lavorando sempre preparano per un anno migliore sicuramente non è se si vede qualcosa giù non c'è niente anni fa ho visto la prima salita da questa versante qui c'era la nacellaia di palluzza con i polli la lazera ecco sono belle costruzioni da un po di tempo sempre ok ok questo è il mezzo è servito per aprire uno dei mezzi sicuramente ce ne saranno stati altri sono nel boschetto dovrò usare due mani perché neanche più impegnativa sto andando su a 9 10 all'ora sono 12.219 chilometri in tutto comunque siamo i carni siamo su trio il 22 maggio il giro deve passare di qua l'ultima volta qui è passato pantani so di averlo visto bellissimo professionista doc era molto veloce scattante allenato un ciclista proprio quei fiocchi quindi si fa poca fatica in questo pezzo per riprendere fiato qui abbiamo su un metro e mezzo quindi più si sale più ce n'è vediamo se riesco a fare una piccola sosta qua sopra prima di arrivare su all'ambiente esgoles questa è tutta riserva d'acqua beh adesso ci sono due muri di neve comunque sarà un bel ricordo questo passaggio nel 2021 veramente strabiliante il tutto quindi mi sa che devo cambiare marcia perché più impegnativa più in su quindi abbiamo fiato volete un passaggio? forza forza ma sto facendo le riprese allora sai ci vuole fiato no? bene credo di essere a metà percorso qui la neve si sta disfando c'è qualche sciatore salve diamo un po più di forza sto cominciando a scaldarmi che conseguenza ecco questo è un pezzo molto impegnativo ancora più su ancora peggio comunque sono con la mia ebike a 70 anni non rischio a venire adesso con una bicicletta diversa da questa qui ci sarà molto tifo se è possibile qui li vedi molto bene in questa curva andiamo un po in cima guarda in sotto cominciò ad avere fiatone però arrivo sino al ristorante mi guarderò un po intorno e poi c'è l'ultimo pezzo molto impegnativo molto impegnativo si senta che stenta un po perché non può esserci o magari neanche noi non possiamo esserci mancheranno 300 metri per la prima sosta manca ancora un bel pezzo più su si va più fatica si fa comunque siamo bene la prima sosta farà 300 metri manca ancora un bel pezzo per arrivare su qui ci sta stringendo la carreggiata ok credo che tra un po vedo l'ambiente las goles vedo la seggiovia da questa parte ferma qui alla mia destra adesso mi fermo qua un attimo riprendo le forze qui siamo a 1600 metri questo è l'ambiente las goles adesso vediamo dove posso appoggiare il piede questo è fantastico buona occasione per essere qua adesso avete solo dove appoggiarla la mettiamo qua prima fermata da sutrio don colan carnea 25 aprile 2021 domenica qui 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 qui